Cari amici, buonasera, buon mercoledì sera. Come si dice, dalle mie parti si è scollinato, cioè si è passati oltre la metà della settimana e si guarda con rinnovato entusiasmo al weekend che arriva. Naturalmente chi attende la partita di Udine sarà un pochino più in ansia, chi attende semplicemente il weekend molto probabilmente non è qui ad ascoltarmi e in ogni caso si è scollinato, quindi si è passato il mercoledì. Non appena termino l'operazione di arrotolamento delle mie mani, che parto con l'argomento di oggi, che secondo me è un argomento interessante e che vi coinvolgerà nella discussione, perché al di là delle opinioni su Ibra e Nazionale, ognuno ha chi ha soddisfazione per la cosa, chi ritiene che sia poco adeguata come cosa per uno di 41 anni che torna da un grave infortunio, comunque al di là di questo, e non sarà certo questo a spingere la nostra stagione da un lato o dall'altro, questa mattina ho avuto un interessantissimo scambio di opinioni con Daniele nel nostro gruppo privato Telegram su vari argomenti, su Pioli, sulla squadra, sulla dirigenza, su varie cose. E questo mi ha fatto pensare, poi mi ha fatto riflettere nel corso della giornata, così, e allora mi sono tornata alla mente delle parole di Paolo Maldini nel pregara di Tottenham Milan, delle parole che sono il pretesto per iniziare questa nostra conversazione. Dice, questa domanda, li ricorderete, era lì con altri gioielli di un Milan che fu più un signore del quale non ricordo il nome, questa domanda me la fai sapendo che non mi piace la difesa 5 in generale e ride. Abbiamo sempre parlato di quello, abbiamo sempre giocato a 4, l'idea di cercare compattezza in un momento difficile è logica. Lo puoi fare attraverso la difesa 5, attraverso la difesa 4 con un centrocampista in più. Lo puoi fare in mille maniere. Il ruolo mi impone di parlare con l'allenatore, di vedere cosa si può fare per migliorare una situazione che stava diventando delicata. Naturalmente le idee e le decisioni sono sue e vengono poi supportate. In buona sostanza, che cosa sta dicendo Paolo Maldini? Che cosa ci ha detto in queste frasi che sono passate un po' in sordina, giustamente una settimana fa, perché poi c'è stata la partita, c'è stata la soddisfazione per la qualificazione, ma che cosa ci ha detto Paolo Maldini con queste battute. Ci ha detto che questo sistema di gioco a lui non garba tanto. Che probabilmente l'idea di Milan che aveva in testa lui, cioè Paolo Maldini, all'atto della costruzione della squadra è diversa da quella che poi Pioli ha messo in atto. E probabilmente è diversa anche la strategia alternativa che Pioli ha messo in atto, cioè questo 3-4-2-1, rispetto a quello che magari Maldini avrebbe voluto vedere, cioè un 4-3-3. Qui siamo ovviamente in un campo di supposizioni, fino a certo punto poi però, perché le parole sono state abbastanza chiare. Io non voglio fare il difensore di Pioli e nemmeno voglio fare il difensore della società, ci mancherebbe. Anzi, voglio dar contro a uno e dar contro all'altro. Così, come dire, facciamo una polemica, una finta polemica a tutto tondo. Diamo contro alla dirigenza perché la scorsa estate ha fatto un mercato non adatto al tipo di gioco del nostro allenatore. Il nostro allenatore vuole un Milan veloce nel recuperare la palla, quindi dinamico dal punto di vista fisico, atletico, robusto, intenso, veloce, rapido. Gli sono stati comprati dei giocatori che non hanno queste caratteristiche, perché Adli non ha questa caratteristica, perché Vranx non ha questa caratteristica, perché soprattutto De Ketteler non ha questa caratteristica. E quindi Pioli, ecco, non è stato, non è stato, fra virgolette, premiato. Cioè, gli si è mancato un po' di rispetto in questo senso. Perché, vedete, qui poi si scade subito e faccio questa, questa piccola, apro questa piccola parentesi per prevenire qualsiasi tipo di commento, secondo me fuori luogo. Quando si parla di aziendalista, dell'allenatore aziendalista che dice sempre di sì a tutto, non sia ben chiara, ecco, la dimensione di quel ruolo, perché gli allenatori poco aziendalisti poi finiscono, come dire, magari con carriere di uno o due anni in una società e niente di più, perché poi vengono cacciati, no? Quindi non è questione di essere aziendalisti, è questione di collaborare. Una società di calcio, ma in generale una società, un'azienda, viaggia bene se i suoi elementi, no? Se coloro che decidono e coordinano e dirigono, sono capaci di convergere su un pensiero unico, cioè un'identità di visione e un'unità di visione che rappresenta la strada da battere. Ecco, in questo senso il mercato scorso è stato fatto non seguendo quelle che sono le idee dell'allenatore e quindi da qui il concetto di mancanza di rispetto nei confronti di Pioli. Da un lato, dall'altro lato, e quindi qui abbiamo messo a posto alla società. Dall'altro lato, però, c'è anche un'altra cosa da dire, e cioè che Pioli stava andando alla morte, cioè stava andando a sbattere contro il muro, perché ha continuato a voler far fare al Milan delle cose che al Milan non è più possibile fare. Ha continuato a voler proporre un certo tipo di gioco quando evidentemente la squadra non lo poteva fare, non lo poteva fare perché non ce la faceva più fisicamente, non lo poteva fare perché non ce la faceva più emotivamente, vuoi perché alcuni suoi elementi non rendevano quelli più importanti, vuoi per tante ragioni, vuoi anche per una questione mentale, perché dopo la partita con la Roma noi abbiamo mollato l'atto campionato. Fino alla partita con la Fiorentina pensavamo di poter andare a prendere il Napoli, probabilmente diciamo fino alla partita con la Salernitana, ecco, quando Napoli perse a San Siro con l'Inter, dopodiché abbiamo mollato gli ormeggi. Capito che non c'era più verso di andare a prenderci il campionato, abbiamo lasciato perdere. Questo ovviamente è indice di poca maturità, riconducibile all'età media di alcuni giocatori, perché sicuramente altre squadre, magari con giocatori più esperti, avrebbero potuto affrontare la cosa in modo diverso. Poi in realtà vediamo che ad esempio squadre come l'Inter, che hanno un'età media un po' più alta e hanno giocatori mediamente, ecco, un pochino più avezzi alla vittoria, sono nella nostra... più avezza alla vittoria. Stavo pensando alla rosa, no? Perché mi viene in mente, sì, Lukaku, qualcosina, Jaco, non è che anche loro abbiano campioni nel mondo, ecco, cioè nel senso, non è che anche loro abbiano poi una squadra di giocatori che ha vinto tantissimo, ma in ogni caso anche loro si sono trovati nella stessa situazione nostra, cioè finita la speranza di lottare perché il Napoli era troppo forte, hanno mollato e hanno alternato dei risultati. A differenza nostra però loro possono considerare la stagione tutto sommato discreta e che potrebbe tendere al buono perché hanno ancora la Coppa Italia, perché possono raggiungere ovviamente i primi quattro posti in cambiato, perché hanno già vinto un trofeo, quindi la situazione è diversa, loro stanno meglio di noi. Ma in ogni caso questo è il principio. Su questo poi a Pioli si può imputare non solo questa cosa qui, cioè di aver sbattuto contro il muro così tanto da doversi rompere la testa e andare alla difesa a tre, ma anche di non essere, come dire, di non essere stato lui per primo insieme ai ragazzi, quindi qui allarghiamo un po' l'accusa, tra virgolette, capace di creare questa mentalità, perché poi non posso sentire dire al mister che dice, no, io ci dobbiamo fare, dobbiamo lavorare sulla personalità, ma sei tu che dovresti fare questa cosa, non la possiamo fare noi, perché noi tifosi, se potessimo, verremmo ogni giorno lì con il megafono a urlare e spingere, ma sei tu che da dentro devi fare un certo tipo di lavoro. Quindi, mosse le accuse a tutte e due le parti, adesso cerchiamo di capire che cosa è successo, perché mi pare evidente che, insomma, l'andazzo preso dalla squadra non sia molto di gradimento alla nostra dirigenza, perché Paolo Maldini l'ha detto, ha detto questa è una situazione tampone, io, dice, avrei messo un centrocampista in più, Piori il centrocampista in più lo vede come fumo negli occhi, perché lui vuole giocare col centrocampo a due, perché l'anno scorso si è trovato nella condizione di mettere un terzo centrocampista, ma in quella che poi per tutti è diventata la posizione da falso trequartista, e quest'anno lui non voleva fare quella cosa lì, lui non voleva, non voleva, io pensavo che lui, io, ecco, mi ero messo in testa la scorsa estate, ve lo ricordate, ve lo dissi, pensavo che questa fosse l'idea dell'allenatore, e invece era l'idea della dirigenza, con questo non voglio dire che la dirigenza debba interferire con il lavoro dell'allenatore, ci mancherebbe, ognuno fa il suo e poi si trova una sintesi, però è evidente che a Pioli questo tipo di sistema di gioco non piacciono, Pioli vuole giocare così e adesso andrà avanti con questo 3-4-2-1, 3-4-2-1 che c'è arrivata persino la gazzetta dello sport, oggi a dire, depotenzia Leao, fermo restando che poi dopo lì ci sono mille sfumature, perché non basta a giustificare il rendimento di Leao, non basta un cambio di posizione di qualche metro, in realtà poi non è così, è un po' più complicata la storia, ma diciamo che c'è anche dell'altro sicuramente, situazione che, e qui torniamo alla dirigenza, situazione che va assolutamente sanata entro il 30 giugno, cioè non esiste che poi facciamo tutto un anno con Leao in casa, pronto ad andarsene, con i giornali che ogni giorno sbrodolano sul rinnovo imminente, oppure no, oppure sì, oppure no, a seconda dei risultati, non esiste. Poi dopo si faranno delle valutazioni anche sull'operato del mister, secondo me, ovviamente nel caso in cui dovessimo uscire dalle prime quattro, la valutazione si farà su tutto, quindi anche i dirigenti, attenzione perché io sono sicuro che se non dovessimo centrare l'obiettivo minimo, al di là di tutte le battute che possiamo fare sulla scarsa propensione della nostra proprietà a veder la vittoria a tutti i costi, al di là di tutto questo, se non dovessimo centrare l'obiettivo Champions League, è chiaro che tutto il progetto, che comunque è un progetto che è stato vincente, ma che adesso, come dire, soffre un po' di tanti anni tirati a mille, verrebbe rivisto, verrebbe riconsiderata anche la posizione dei nostri dirigenti, questo è inevitabile, ecco. Quindi, da un lato abbiamo un allenatore che ha qualche mese per riuscire a fare qualcosa di grande e qualcosa di minimo, fuori dai denti, andare più avanti possibile in Champions e poi vedremo dove capiteremo. A proposito, venerdì, alle 13 siamo in diretta, per commentare con voi i sorteggi di Champions League. E dall'altra abbiamo una dirigenza alla quale probabilmente, come dire, questa soluzione dell'allenatore andava bene, se l'è fatta andare bene, ma solo nel caso in cui questa fosse temporanea. Adesso pare che questa sia la soluzione definitiva, perché non si parla di, come dire, di riprendere a fare altro, si parla di continuare su questa linea. E quindi vedremo che cosa succederà. Insomma, i risultati poi alla fine sono la madre di tutto, perché da lì arrivano i giudizi, arrivano le valutazioni, arriva tutto quanto. La mia speranza è che almeno fino al, come dire, fino ai primi di giugno, per il bene del Milan, le anime alle quali io ho fatto sempre appello, perché di certo, come dire, non ripongo le mie speranze in Elliot o in Rayburn, io ripongo le mie speranze in Maldini, Massara, Pioli, i ragazzi, eccetera, no? Cioè, su chi sul campo ci va e chi costruisce la squadra. Lì ripongo le mie speranze per un Milan vincente. Ma dopo tre anni e mezzo di costruzione, di elaborazione, di esecuzione, di un Milan che è stato bello, perché non venite a dirmi che Pioli non ha dato un gioco al Milan. Non venite a dirmelo. Pioli ha dato un gioco al Milan, un'identità riconosciuta a livello europeo in alcuni momenti, eh? Quindi non venite a raccontarmi la fiaba che Pioli non è stato capace di dare un gioco al Milan. Pioli si è trovato al posto giusto, nel momento giusto, con dei ragazzi che hanno seguito le sue idee e che adesso sembra, come dire, sembrano essere arrivati insieme al mister a un punto di, non dico rottura, ma un punto, come dire, di un po' di fatica. Ecco, un po' di fatica. Quindi è chiaro che molto dipenderà da quello che riusciremo a fare in campionato, un po' dipenderà anche dalla fortuna in Champions, insomma, in fin dei conti siamo lì. Cioè, voglio dire, adesso io non penso onestamente che il Milan riuscirà a vincere la Champions League, ma penso anche che il Milan non debba pensare di non riuscire a vincerla, non so se mi sono spiegato. Quindi siamo lì, anche l'anno scorso per molti i campionati non si doveva vincere, poi è andata diversamente. Qui è più difficile, in parte è più difficile, però ci siamo, ecco. Quindi vediamo come finisce la stagione. La cosa importante, ripeto, per il bene al Milan è che si sistemino queste due cose. La prima, un rapporto che ci deve essere tra l'allenatore e la dirigenza, e insomma, visto il rinnovo dello scorso autunno, io spero che si possano chiarire su questa cosa, le difese a 3, a 4, a 5, a 6, e poi dopo la questione dell'Eau, ovviamente. La questione dell'Eau, sui giornali, chiudo con questa cosa, ho pubblicato nel gruppo Telegram News un pezzo, il titolo, di un editoriale, di un giornalista della Gazzetta dello Sport, che è un proclama sostanzialmente, perché poi sapete che, giornalisticamente parlando, quando cominciano a uscire degli editoriali dove si parla di, ma però il Milan senza Leau farebbe bene perché, farebbe bene, non sarebbe male perché così potrebbe ridisegnare l'attacco. Quando escono queste cose, ecco, bisogna cominciare a pensare, è probabile che siano dei segnali, dei segnali di un Milan che, secondo me, farebbe bene a separarsi da Rafa, il quale ha evidentemente manifestato la volontà di non rinnovare con noi perché sennò l'avrebbe già fatto. Poca storia. Di là di tutta la pletora di gabbiani che volano sopra il campo arato, ma se avesse voluto rinnovare l'avrebbe già firmato. Quindi l'Eau non rinnoverà, troviamo adesso una soluzione e soprattutto, e soprattutto, prima di invocare le pedate nel sedere, esigo dal giocatore delle prestazioni. Insomma, adesso lasciamo stare questo periodo che può capitare, ma esigo dal ragazzo delle prestazioni, vuol dire, che giustifichino la qualifica di giocatore importantissimo per il Milan, perché sennò siamo solo a chiacchiere, ma poi dopo i risultati stringi stringi, non ci sono, e siamo lì ad aspettare che Olivier Giroud faccia uno dei suoi colpi. Ok? Aspetto i vostri commenti, vi ringrazio, vi do appuntamento. A domani mattina con la rassegna stampa, a domani sera con Talk, che ritorna, puntata bellissima, non mancate, non perdetevela, perché mi avete mandato tantissimi messaggi, e vi ringrazio, il numero 366-111-2964. Tanti vocali, tanti argomenti interessanti, anche una polemica nei miei confronti, che ci sta bene, quindi voglio rispondere, mi pare che si chiami Nino, il signore, eccolo qua il numero di telefono, mi pare che si chiami Nino, il signore che mi ha mandato un messaggio, devi dire una cosa, a me già quelli che mi dicono devi dire, comunque ne parliamo domani, venerdì alle 13 in diretta con Friday Mid Live, puntata speciale con gli amici della Compagnia della Live, a commentare i sorteggi di Champions, sabato, naturalmente, nell'intervallo della partita, dopo la partita, tutto quanto, qui a Udine. Ciao a tutti, buona serata.